Piero Rosasarva, ci siamo, finalmente torna la Venice Marathon in presenza, ci racconta quali sono le novità principali di questa edizione? Direi che la cosa principale è proprio che ritorna la Venice Marathon, non era scontato quando all'inizio dell'estate noi abbiamo visto qualche spiraglio un po' nella possibilità di ripartire con le manifestazioni di massa all'aperto di sport, però era anche un momento in cui si temeva che riprendesse il contagio quindi noi con coraggio, con un po' anche di incoscienza abbiamo contattato le autorità e le istituzioni, i nostri sponsor e siamo ripartiti. Per la verità anche l'anno scorso non siamo stati del tutto assenti, come ricorderanno gli appassionati abbiamo realizzato quella maratona simbolica di tre persone, tre atleti che hanno percorso comunque il percorso della maratona assistiti dalla polizia stradale e comunque accolti anche con simpatia dal pubblico, dalle persone sul percorso, perché volevamo anche lo scorso anno comunque testimoniare che Venice Marathon c'era. Certo è tutta l'altra cosa quest'anno, poter riproporre il progetto che ormai si è consolidato negli ultimi anni, anche dei decenni, perché siamo alla 35esima edizione ed è il 36esimo anno appunto per il buco del 2020. Quindi abbiamo potuto riproporre le quattro family run a Sandona di Piave, Chioggia, a Dolo e a Mestre il giorno prima della maratona e poi naturalmente il programma completo della Venice Marathon con la 10 chilometri da Parco San Giuliano a Venezia e la classica 42 chilometri nel percorso ormai conosciuto in tutto il mondo, straordinario da Stra, Piazzo d'Artico, Dolo, Mira e poi tutta la città moderna, città di Maghera, Mestre eccetera e fino al ponte di Barchi attraversando il porto e lo stupendo percorso finale a Venezia. Quindi direi che la cosa principale quest'anno è esserci, avremmo, lo dico subito, un po' meno partecipazione, noi eravamo stressati come attorno alle 6.000 partecipazioni atleti sia nella maratona sia nella 10 chilometri negli ultimi anni. La 10 chilometri probabilmente rimarrà abbastanza invariata mentre per la maratona ai 42 registriamo una difficoltà da parte degli atleti stranieri, di gran parte dei paesi stranieri, soprattutto extraeuropei, quindi probabilmente raggiungeremo i 4.000 runners. Ma sono numeri importanti comunque, voglio precisare che all'estero sono ripartite alcune grandi maratone ma tutte con numeri molto, molto inferiori agli anni precedenti. È chiaro che è una ripartenza difficile, gli atleti non si sono potuti preparare, la paura ancora di viaggiare è grande, ma io credo che andava fatto questo sforzo da parte nostra. Io voglio ringraziare molto le istituzioni della regione, città metropolitana, tutte le istituzioni, amministrazioni pubbliche, ma anche altre istituzioni per averci creduto, averci sostenuto e certo sarà un'edizione difficile, anche sul piano economico avremo più costi per tutto il servizio di prevenzione sanitaria, ma io credo che questo territorio che da 35 anni ha imparato ad amare la Venice Marathon meritasse questo nostro sforzo organizzativo. Ecco, ci sarà il Green Pass? Riepiloghiamo un po' le norme per gli atleti. Sì, assolutamente sì, naturalmente gli atleti dovranno partire a scaglioni, dovranno tenere la mascherina per i primi metri della loro corsa, noi faremo partire a blocchi gli atleti, blocchi di circa 500 persone, poi dopo alcuni minuti un secondo blocco, questo non compromette la prestazione sportiva perché come è noto da molti anni ormai gli atleti hanno sul numero pettorale inserito un chip personalizzato che quindi dà il tempo reale, è una specie di telepass che viene segnalato dai sensori che noi abbiamo lungo il percorso, la partenza e l'arrivo in particolare, quindi faremo delle partenze scaglionate, ci sarà anche al villaggio, al Parco San Giuliano tutta una serie di procedure di controllo di Green Pass e di percorso anche all'interno per evitare assemblamenti, il ritiro di pettoralia verrà scaglionato, ci saranno delle, immagino anche, raccomando a tutti di venire già il venerdì e di organizzarsi al riguardo e questo vale anche per le Family Run, qui ringrazio il mondo della scuola che ha risposto con entusiasmo assieme alle famiglie e rivedere la gioia dei ragazzi in questi primi sabati che abbiamo fatto le Family Run è stata una bellissima soddisfazione. Non posso dimenticare poi una cosa che per noi è molto importante, che ci inorgoglisce moltissimo e che il distretto Rotary 2060, il distretto del Triveneto, ha voluto confermare l'accordo fatto nel 2019 di collaborazione per la campagna di eradicazione della poliomelite che come è noto il Rotary Mondiale da molti anni porta avanti e quindi specialmente nelle Family Run tutte le magliette sono caratterizzate con il marchio End Polio Now e devo dire che questa collaborazione nobilita ulteriormente la nostra manifestazione che peraltro da moltissimi anni raccoglie fondi per altri progetti. Voglio segnalare che già ad oggi i nostri varie iniziative di Ceriti si hanno raccolto ben oltre 30-35 mila euro e quindi andremo avanti con questa raccolta fondi però in particolare la campagna che Rotary fa con noi la troviamo di grande significato sociale e umanitario. Quanti saranno i volontari, i collaboratori al lavoro per permettere lo svolgimento della manifestazione? Ma è chiaro che è una manifestazione di enorme complessità che si sviluppa su un percorso in linea di 42 chilometri e per quanto riguarda la nostra struttura al di là del nucleo centrale insomma di alcune decine di persone che diventa poi di alcune centinaia nell'ultima settimana noi abbiamo circa possiamo dire quasi un migliaio di volontari in senso stretto. Qui ringraziamo le associazioni sportive di tutti gli sport, gli appassionati, i singoli cittadini che ci scrivono, ci mandano mail, come si fa per vivere dall'interno la Venice Marathon anche senza correre e noi siamo ben lieti di ospitarli. Però non sarebbe tutto questo possibile senza uno sforzo straordinario delle istituzioni, delle forze dell'ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco e il servizio medico. Abbiamo avuto un'ottima collaborazione anche con la USU3 Serenissima che ringrazio, che ci ha dato indicazioni. Quindi è una macchina straordinaria. Io penso che ne valga la pena perché dà un'immagine di rinascita, di rilancio del nostro territorio e da molti anni Venice Marathon è stata amata e ben voluta perché comunque rappresenta anche forse l'unico evento che c'è nella nostra regione che interessa più città, interessa un'area metropolitana. Crea questo filo conduttore tra Venezia e il suo entroterra, in particolare la Rivera del Brenta con le sue radici storiche, monumentali, paesaggistiche. Quindi l'Avenis Marathon nell'anno in cui non c'è stata questa, ci veniva continuamente chiesto, ma tornerete, riusciamo? Ecco, abbiamo capito che è un evento amato, al di là di noi, che cerchiamo di riportarlo avanti con impegno e responsabilità e quindi dovevamo rispondere anche a questo appello e noi continueremo con grande impegno e già pensiamo a grandi novità per il 2022. Ultimissima cosa, volevo chiedere questo, se ci fa un invito, così i nostri telespettatori e i concorrenti per venire al 24 a vedere, a godere della manifestazione, poi ha detto giustamente il 35esimo edizione, questa è un'emozione particolare, però immagino rispetto anche a tutte le altre. Beh certo, è un po' come il primo anno, in qualche modo ricominciamo, no? Avevamo paura anche noi stessi di essere provati, di perdere l'entusiasmo. Quindi veramente dico a tutti, cercate di venire ad applaudire gli atleti il 24 ottobre perché veramente rappresenteranno una ripartenza di un grande progetto, un progetto che noi non sentiamo nostro, non è una nostra proprietà, è un progetto, è un valore per tutto il nostro territorio. Sappiamo di essere che la Marines Marathon è ben voluta, beh dimostriamolo tutti in quest'anno particolare, applaudendo, accogliendo gli atleti, naturalmente con le massime attenzioni, con la massima attenzione alle norme di sicurezza, anche gli spettatori, pur essendo all'aperto, cerchiamo di mantenere i distanziamenti e i comportamenti adeguati perché deve essere un giorno di festa per tutti. Grazie mille. Grazie a voi.